Ciao a tutti ragazzi Oggi andremo a giocare a Granny Allora siccome Granny è sempre lenta Oggi ho voluto fare una cosa Mettiamo Aisy Usciremo dalla casa di Granny Aisy Ma ancora non sappiamo se usciremo dalla casa di Granny Primo Perché Voi potete dire Ettore ma se è uscito nella casa Nella quarta casa Seconda casa E non uscirà nel primo che sarà ancora più facile Più piccola Ora ve lo dirò subito Forse non uscirò da questa casa Perché C'è la nonna che me lo impide Comunque la nonna non vuole che esco ovviamente Quindi Vediamo se c'è la faccia ad uscire anche con la nonnina La nonna no Nonna no La nonna no Nonnina Eh tu sai Eh tu sai quante case sono uscito Eh tu si Ehi Tu picchi fai così Oh non fai così dai Collaggio 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 Ciao bella Ciao 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 Usciamo da qua subitissimo Subito Vediamo se viene No se viene No se viene Viene Nonno Nonno Oh nonna Non vieni È perché sei sfigata Ha 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 Ecco qua Ok Allora Vediamo cosa La batteria Oggi usciremo con la macchina Eh Quanto pare si No veramente non lo so Vediamo Mamma mia Stavo uscendo ragazzi Stavo Uscendo Ma Se so Come uscire dalla macchina La macchina che pezzi serve Allora La macchina Ci vuole la batteria Che ce l'abbiamo La La candela La benzina Il motore E basta Cioè usciamo Usciamo dai Vediamo Come al solito Ho messo una trappolozza 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 Ok Pensavo che era scesa Scendiamo Scendiamo Ma perché questi giorni Non so parlare Ok Oh No Perché tutti i minuti Cerco di uscire D'altra parte Intanto facciamo una cosa Guardate che faccio Così Poi Faccio rumore Da questa parte Così io la tiro Qua Ok Ora Ora Bella nonnina Bella Ok Io devo fare un altro lavoro Così almeno Nonnina Puoi venire E io ti uccido E non è meglio così Va 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 Che se no facciamo rumore Allora Apriamo il coperchio Il coperchio E no la batteria va là Vai Ok a posto Poi la pistola Tutto 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 Va bene Sapevo un oggetto Però io ho Al zero volume Ok C'è bisogno Ma io la musica Non la voglio Ma Va 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 Non si può aprire Ai 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 Dai Vediamo se esce Vediamo La nonnino Dai Se ne è andata ragazzi Ora Vediamo Chiave No Questa chiave è buona Ragazzi Questa chiave è buona La trappolone La trappolone Ok Questa chiave ragazzi No Devo andare All'altra parte Però io No 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 Manna Ok ragazzi Sono qua In quest'altra parte Perché ho dovuto Prendere per forza Ho dovuto Prendere per forza Il pulsante Per stoppare il video Perché se no Ci volevo un sacco Per aspettare Nonnina Io ti voglio bene Sì sì Muori va Muori Che sei bellissimo Due minuti Quindi Intanto Con due minuti Non ce la farò mai Però Sai Bastano sempre Due minuti Allora Intanto prendiamo Questo Che è un pezzo del motore Mettiamolo Nella macchina Però Non so se Posso uscire da qua Perché Comunque Tanti pezzi Ci vogliono Poi c'è anche la nonna In mezzo Che non so Però io voglio Voglio battere Cioè Voglio farle Sta cosa Voglio uscire da tutte Tutti i giochi di Granny Cioè non ci credo Guarda ti giuro Comunque Messo Ora ci vuole Soltanto Come si chiama Soltanto Cosa Candela E poi Per montare La candela E quindi Ragazzi Ci vuole proprio Una fortuna Se dobbiamo uscire da qua Mamma mia Però Sarà difficile Sarà difficile Dimenticare No scherzo Però Buono Buono Però ora Ora Usciamo fuori Ecco fatto Poi Apriamo Facciamo Giriamo qua Per vedere Quello che c'è nel pozzo Dai Vediamo Ecco qua Ma che mi interessa A me Che bello Gasolio Buono 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 Molto buono Però Non so Ora che cosa Ci serve Eh ma io Che lo voglio Il gasolio Se non si può Se non si può Cedere Addietro Che lo voglio Ragazzi Secondo me Dovrò uscire Domani Dalla casa Perché Non ce la potrò Mai fare Facciamo una cosa Allora Ecco qua Granny Di sicuro È apparsa Sì L'ho sentita Ora Lei Passerà Lì E io La chiuderò Se questa cosa Fallirà Io Perderò Un giorno Se non è fallita Se non sarà fallita Questa idea Non perderò niente Ma Diventerò Divertente Dirò Ma comunque ragazzi Dai Nascondiamo Mamma mia Ha funzionato Ragazzi No ma non si sa Perché le può spaccare Anche le porte Che lei Che lei È una nonna Porta Ciao nonna Mi scialaia Mi scialaia Sei morta? Ma non è morta Però sta per morire Ah Sta per morire Mi dispiace Nonnina Se rompeva la porta Io non potevo fare più niente Quindi Meno male Meno male Che non ha rotto la porta Saliamo sopra Andiamo a vedere Quello che c'è Sopra Ovviamente Ok Andiamo a vedere Quello che c'è sopra Allora Spacchiamo qui Quanto però Non c'è niente Però Dai Qua Prendiamo Qualche cosa Sono dentro La casa La zetta Ma non ce l'abbiamo Ma comunque Se dobbiamo aprirlo La casa Allora ragazzi Io comunque ho capito Che non posso Uscire da questa casa Perché c'è Granny Sempre a mezzi piedi Quindi domani Proverò un'altra volta A uscire Ma senza Granny Qua c'è anche Lo scimio Che si chiama Giara Ok E domani Proverò un'altra volta A uscire da questo Da questa maldetta casa Ma se non Mi ha ucciso Ma se non c'era Ma se non c'era Granny Ero già uscito Da Ero già uscito Da un pezzo Vabbè ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Noi ci vediamo al prossimo video Domani Ciao